Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Continua la storia sacra, quindicesimo ed ultimo episodio. Eleazzaro e i sette fratelli Maccabei. Il Messia è vicino. Eleazzaro e i sette fratelli Maccabei. Ritornati in patria, gli ebrei si misero subito a ricostruire il Tempio e le mura di Gerusalemme. Essi avevano molto sofferto lontani dalla Santa Città. Sentivano perciò il bisogno di rinnovare l'alleanza col Signore e di servirlo con cuore sincero. Tuttavia essi non furono completamente liberi dalla dominazione straniera. Dovettero dapprima pagare il tributo ai Persiani, poi ai Tolomei d'Egitto e infine ai re di Siria. Questi ultimi perseguitarono ferocemente gli ebrei. Uno di essi, Antioco Epifane, profanò il Tempio e ordinò i giudei di rinunciare alla propria religione, se volevano salva la vita. Moltissimi preferirono morire. Tra questi vi fu il vecchio Eleazaro, che i nemici volevano costringere a mangiare carne proibita dalla legge. I suoi amici lo consigliavano a farsi portare di nascosto carne non proibita. Ma egli non volle. Non è lecito, disse, non posso a novant'anni fingere di rinnegare la fede e così lasciare ai giovani una pessima impressione. E poi, quando anche sfuggissi i supplizi degli uomini, non potrei sfuggire dalle mani di Dio. E si avviò lieto al martirio. Il suo fulgido esempio fu seguito da molti altri, tra cui una madre coi suoi sette figli Maccabèi. A uno a uno, dal più grande al più piccolo, essi furono barbaramente uccisi sotto gli occhi della madre, che aditava loro il cielo. Da ultimo fu uccisa anche la madre. La morte ma non peccati San Domenico Savio Il Messia è vicino A difendere il popolo di Dio sorse una famiglia di eroi, la famiglia detta dei Maccabèi. Poiché essi furono il martello dei nemici. Chi ha zelo per la legge di Dio mi segua, aveva gridato il padre dei Maccabèi. Intorno a lui e ai suoi cinque figli si raccolse un esercito valoroso, che fece guerra implacabile al crudele re della Siria. Morto il padre, prese il comando della guerra santa Giuda, il più ardente dei Maccabèi. Una volta Dio stesso gli venne visibilmente in aiuto. Cinque fiammeggianti guerrieri scesero dal cielo. Due si posero al fianco di Giuda, e gli altri scagliarono dardi e fulmini contro i nemici, facendoli cadere a terra accecati. A Giuda successero i suoi fratelli, i quali furono tutti molto valorosi. Morto però l'ultimo dei loro discendenti, sorsero aspre contese per la successione al trono. Intervenne allora Pompeo, generale romano, che ridusse la Palestina a provincia romana, e diede il regno di Giuda a Erode. Uno straniero intrigante e crudele. Lo scettro era stato tolto dal regno di Giuda, quindi, secondo la profezia di Giacobbe, il Messia stava per venire. L'attesa di un Salvatore era viva presso tutti i popoli. Roma stessa lo attendeva. Lo sospiravano soprattutto i buoni, gli umili, gli schiavi. E il Messia venne, negli ultimi anni del regno di Erode, nacque Gesù. Tutto l'Antico Testamento, di cui abbiamo brevemente studiato la storia, è una preparazione all'avvenuta del Salvatore nel mondo, Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.